Buongiorno, buona mattinata a tutti voi, siamo qui come sempre tutte le mattine in diretta per Occhio ai giornali, sfoglieremo il resto del Carlino e Corriere Adriatico in edizione locale Per vedere quelle che sono le notizie, i titoli naturalmente principali della provincia Naturalmente noi guardiamo anche il tempo e l'almanacco del giorno Partiamo proprio da questo, vediamo oggi che cosa ci ricorda la chiesa Martedì 5 settembre, Santa Teresa di Calcutta Il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà alle 19.38 Madre Teresa di Calcutta, sappiamo tutti chi è, cosa ha fatto Quindi oggi è una giornata importante per tutte le persone che ha assistito E per la sua opera naturalmente che rimarrà sempre presente nel cuore di tante persone E si continua naturalmente la sua opera ancora in questo secolo e nel secolo a venire Insomma ci sarà sempre qualcuno che in nome suo farà del bene ai dereliti, alle persone in difficoltà Bene, Madre Teresa di Calcutta, un esempio per tutti sia di vita che anche di religione Vediamo il tempo, che cosa ci aspetta per la giornata di oggi e quelle a venire Oggi è martedì 5 settembre, sereno e poco nuvoloso Cumuli bel tempo però nelle zone appenniniche Precipitazioni assenti, le temperature sono in lieve aumento E 20 di regime di brezza e il mare è quasi calmo E vediamo anche domani per mercoledì più o meno la stessa cosa Si intensifica un po' la nuvolosità perlomeno nella prima parte della giornata E poi naturalmente ci sarà un incremento della nuvolosità nel resto delle ore della giornata Però le precipitazioni non ci saranno, le temperature incominceranno a risalire Addentriamoci nel cuore della settimana, siamo a giovedì Vedete qui lo scenario è molto complesso, c'è un po' di tutto Cielo irregolarmente nuvoloso con aumento della copertura Nella seconda parte della giornata Precipitazioni in tarda mattinata con rovesci e temporali sparsi Le temperature chiaramente sono in diminuzione e si intensificheranno anche i venti Con conseguente mare mosso Quale sarà la tendenza per i giorni successivi? Ci saranno in transito saccature provenienti dall'Atlantico E quindi tutto questo creerà condizioni di variabilità Quindi avremo qualche giorno ancora di bel tempo Oggi, domani e poi dopo dalla seconda parte della settimana Dovrebbe insomma peggiorare leggermente Vediamo i titoli dei giornali Guardiamo naturalmente che cosa ci propongono Sia nelle pagine interne che nelle pagine di apertura Insomma quasi tutti sono allineati sul branco Sugli stupratori di Rimini Perché adesso si incomincia un po' a scandagliare Si va al setaccio di quelle che erano le loro attività Cosa facevano, chi erano, cosa frequentavano, chi frequentavano Insomma tutta la loro permanenza sul territorio nazionale Pagina di apertura quindi del resto del carlino Praticamente vedete li avevamo sotto casa Perché sono nel gruppo di piazzale Matteotti Che si conosceva E molti erano a conoscenza delle azioni del branco A Rimini e ne parlavano tra di loro E ora si va a fondo anche sulla rapina in spiaggia Al sacro cuore Cattivi ragazzi in tanti sapevano E poi il segretario nazionale di Fratelli d'Italia Rinancia, migranti, appunto Giorgia Meloni Attacca prefetto e sindacati Troppa fretta di minimizzare certi fatti Questo è il pensiero di Giorgia Meloni E poi a Pantano e Cattabrighe Multa ai ciclisti spericolati Vanno sui marciapiedi e passano col rosso Io direi che delle volte passano anche sulle strisce pedonali Insomma giro di vite per rimettere in carreggiata Anche i ciclisti E vedremo poi nelle pagine interne Allora il resto del carlino dedica due pagine Ve le faccio vedere tutte, la 2 e la 3 Appunto a quello che era il loro habitat Dove vivevano, chi frequentavano e perché Eccola qui, insomma in queste due pagine Ripercorso un po' Pesaro e Riviera Dal tramonto all'alba Le notti folle di quei ragazzi Vedete proprio qui il piazzale Matteotti Un luogo dove spesso si frequentavano E si intrattenevano con altri ragazzi del posto Aspettare la Spidi e il bus che li portava a Montecchio Ma partiva solo alle 11 del mattino E poi si parla di una telefonata profetica La polizia di Rimini Che dice Indagate qui tra i ragazzi di piazzale Matteotti Signalazione fatta da un cittadino Che lunedì 28 Orecchia appunto Ascolta le frasi degli amici E mi sono qualificato Ho detto chi ero E dove abitavo E ho spiegato che avevo sentito i ragazzi Parlare molto di quella notte E quindi insomma Se ne faceva argomento di discussione E il Capobranco Il ventenne L'unico maggiorene del gruppo Ha frequentato diversi corsi Di qualificazione professionale Il corso della Tagliatella Al ristorante La Perla Un corso di formazione Della cooperativa Labirinto Che faceva in collaborazione con alcune associazioni locali E anche professionali Bravo Ma forse beveva troppo Questo pare essere un po' il suo tallone d'Achili Le avventure fanesi Due corsi professionali sulla ristorazione Però lui giocava in una società sportiva Il sogno suo forse era il pallone E non tanto quello di fare il cameriere Il sindacato, il SULP Rivendica il lavoro dei poliziotti L'anzi dice Attenti allo IUS soli Forse va fatta una revisione delle norme Sui minorenni Ancora nelle pagine del resto del Carlino Ve l'ho fatto vedere nel lancio di prima pagina Bici sul marciapiede Altri 5 a Cattabrighe Presi per essere passati col rosso 18 sanzioni da 41 euro In via Nino Bixio Il comandante Galdenzi Dice reazioni composte La gente ha capito di aver sbagliato E ci hanno dato ragione E qui un'eloquente immagine Un'immagine abbastanza frequente Anche da noi qui a Fano Anche in certe zone come il semaforo del Lido Dove addirittura si fa una strada Completamente contromano Venendo su dal mare La pagina di Fano Del resto del Carlino Si fa un po' il punto della situazione A stagione quasi finita Ultimi scampoli di stagione Un lifting per gli hotel Già pronti 2 milioni E forse saranno 10 L'annuncio dell'assessore regionale Pironi La polemica quale è? Il comune paga ad Aset 50 mila euro Per riscuotere la tassa di soggiorno Pensione Arzilla Gran Hotel Elizabeth Hotel Grace Questi sono tutti i nostri hotel Un po' fatiscenti E da riqualificare Nell'altra pagina Del resto del Carlino di Fano Punta un po' il dito Su quello che è avvenuto domenica E sulle reazioni Anche dell'opposizione In particolare i 5 stelle Dice meglio spendere Quei soldi per il collettore Si parla dei soldi Destinati alla manutenzione 70 mila euro Per pulire le caditorie Della città Affidate alla ditta Autospurghi CM Di Iesi Ma dicono i 5 stelle Puliscono queste caditorie Qualcuno controlla Che vengono fatti Questi lavori Perché non è possibile Che due gocce di pioggia Affano E tutto va in tilt La colpa Anche è dei lavori Agli scolmatori Vedete qui Un'immagine Proprio di domenica Siamo alla trave Insomma Più che una pozzangra Questo è un piccolo Laghetto Passiamo alla pagina di apertura Quindi del Corriere Adriatico Ve la faccio vedere Eccola qui Punta la fotonotizia A differenza del resto del calino Su un'altra notizia Un altro evento Sicuramente di grande richiamo Ovvero sia i mondiali di ginnastica Che hanno segnato 20 mila presenze Gli hotel sia 4 o 5 stelle Fanno il pieno di ospitalità E quella anche in eccesso È stata dirottata Pensate fino a Rimini Ringraziamento dell'APA Per la scelta di Pesaro E poi però in titolo di testa Sempre gli stupri di Rimini Stupratori arrestati Anche più volte Dice il Corriere Adriatico Ma sempre rimessi in libertà Furti Raid Le belve e le razzie In zona mare Oggi la convalida Del giudice E poi Una di sport Qui in alto Sotto il titolo del Corriere La vice Pesaro Subito Grande protagonista Cresce l'entusiasmo Si parla di calcio Di sport Di spalle meningite A 14 anni Un milione Alla famiglia Il risarcimento Di una Vicenda avvenuta Nel 2007 Poi di taglio basso Si parla di vaccini Con la riapertura Delle scuole Da Pesaro Dicono Faremo rispettare La norma Sui vaccini Il sindaco Al convegno Sulla gestione Dei bambini Negli asili Qualche problema Lo sta creando Questa vaccinazione Questa norma Ma cercheremo Di superarla Queste le sue Parole E allora Le pagine Del Corriere Adriatico Come hanno fatto Nel resto del Carlino Ripercorrono un po' La vita La storia Di questi ragazzi Che ora fanno Lo scarica barile Ognuno Una cosa abbastanza Vista e rivista In questi casi O scarica Barile del Branco Ma nessuno Però si dice Pentito Il congolese Nega la violenza In spiaggia Dice Mi sono addormentato Oggi Le convalide Dei quattro arresti E qui Come sempre Tutta ripercorsa La vicenda A tappe Dicevamo Nel lancio Della prima pagina Tre volte Arrestati E solo Denunciati Qualcosa Non va Furti di motorini Cellulari Escalation Soprattutto Dei tre minorenni La denuncia Anche arriva Dai sindacati Di polizia Rispettare I limiti Di età Ancora Nell'altra pagina Che richiama Insomma La fotonotizia In prima pagina Del Corriere Adriatico La ginnastica Ha reso Mondiali Anche gli hotel Peccato Dicono Gli albergatori Aver Dovuto dire Qualche no Perché Oltre 20.000 presenze L'ospitalità A Pesaro È andata Tutta esaurita Full out Tutti a Rimini Anche quelli In eccesso Per le delegazioni Alberghi Anche a 4 A 5 stelle Qui vedete Una foto Che ritrae Un momento Dei 5 cerchi E l'Adriatic Arena Quindi piena soddisfazione Ma si parla anche Di San Bartolo E di quello Che è successo Dell'incendio Della Della falesia Che vedete Qui in questa foto Si capisce Tutta l'entità E la vastità Del danno Guardate qui Passiamo da qui Ecco Tutta questa parte È praticamente Tutta andata In fumo Vedete Una porzione Veramente Imponente Di falesia Però Al San Bartolo Si dice Ha funzionato Tutto Consiglio dedicato Allo spaventoso Rogo Giudicata Perfetta La reazione Degli operatori Pesaresi Sotto accusa Però I ritardi Di elicotteri E Canadeira Per domare L'incendio E la riforma Che ha Sottratto Uomini Alla forestale Questa È un po' La disanima Di quello Che è avvenuto C'è anche La pagina Che riguarda Urbino Quelle che Vi voglio far Vedere Si parla Di un'azienda Un'azienda storica La Benelli Armi Per i suoi 50 anni Convoca Anche gli ex Dipendenti Giovedì Visita Alle nuove linee Di produzione Poi pranzo In azienda Con tutta La dirigenza Luigi Moretti Presidente Del Consiglio Di amministrazione Di Benelli Armi Dice La nostra storia È quella Di tanti Uomini e donne Che hanno Creduto In noi Insomma È bella Questa cosa Che anche Gli ex Dipendenti Quelli che Comunque In passato Hanno contribuito A far sì Che un'azienda Diventi Importante E Insomma È leader Di mercato Siano fatti Partecipi Di un momento Di festa Nelle pagine Di Fano Del Corriere Adriatico Si fa un po' Anche qui Il punto Della situazione Su Quello che è stata La stagione La stagione turistica La stagione turistica Fanese E parla Il presidente Di alberghi consorziati Luciano Cecchini Dice I politici Della regione Hanno salvaguardato Però Il sud Delle marche Problemi Di infrastrutture Di strade Si punta Il dito Su Delle mancate Bretelle Che ci postano Qui I turisti Soprattutto quelli Che vengono Dall'Umbria Insomma E quindi Mancano appunto Umbri E Toscani All'appello Per la carenza Delle strade L'affano Grosseto Che langue In agonia Da diversi Decenni Non si finisce mai E' una superstrada Che E' Funzionale Non è funzionale Non è Non è diretta E quindi Per via della Quadrilatero Sono finiti Tutti Nella Riviera Delle Palme Sono andati Tutti a San Benedetto E zone Limitrofe I Toscani E gli Umbri Perché avevano Un collegamento Diretto Questo è Il pensiero Degli operatori Del settore Si parla di una corsa Storica Anche Importante La Colle Marathon Che si vociferava Cambiasse di Di mano Invece Colle Marathon Non si cambia Ma Rilanciamo La promozione Montanari Il suo Patron Dice Precisa Il rapporto Con Trio Event L'azienda L'agenzia Lavora Su brand E media Nazionali Nulla a che vedere Con L'organizzazione E poi I furbi Saltano sempre Le code In giro per fan E anche teatro Tensione Per acquisire L'abolamento Alla Prosa La memoria Di Bigio Sarà Ricordata Alla Rocca Malatestiana Con un Concerto Domani Alle 21.30 La Rocca Malatestiana Ci sarà anche Una raccolta Fondi Per la sua Famiglia Ripetuti Blackout Notturni Rimaniamo sempre Nelle pagine Di Fano Del Corriere Adriatico A rischio I sistemi Salvavita Esasperati I residenti Di camminate Per i ricorrenti Di servizi Dell'Enel Nella zona Ci sono molti Anziani Con l'alimentazione Gastroendoscopica E la respirazione Forzata E quindi Questo non Non agevola Sicuramente Il buon funzionamento Di questi Macchinari I blackout Continui Mandano Un po' In tilte In allarme Questi Macchinari Il canale Albani Nonostante la pioggia Diventa Un bel Prato Vedete Adesso qui Non ci sono Né anatre Né bellissimi cigni E né tantomeno Fauna etica Ma C'è un bel prato Quindi volendo Lo si può anche Percorrere O utilizzare Per un picnic Nella Val Cesano Nel Maltempo Fa Il Maltempo Fa rinviare La cacciata Di sette giorni Perché sicuramente Domenica Non era il caso Di Di fare La gara Del bracciale Ma l'intero Programma È confermato Sabato E domenica Ci sarà Appunto La riscoperta Dell'età Rinascimentale In quel Di Mondolfo Per questa Storica Revocazione Sono tantissimi Anni che C'è Una delle Revocazioni storiche Più longeve Del nostro Territorio Nella Val Cesano Poi si parla Anche Di Produzione Vitivinicola L'effetto Sicità Partita Particolarmente Dal vitigno Della Val Cesano La Col di Retti Chiede investimenti Il Pergola Doc Però registra Un calo Del 60% Perché adesso È tempo Di vendemmia La vendemmia È stata Anche Anticipata Per alcune varietà Di Di Uva E di Naturalmente Produzione Di vino Però adesso Siamo In pieno In piena Vendemmia Anche se È stata Appunto Come abbiamo detto Anche altre volte Anticipata Di una Decina Di giorni Vista la secità L'ultima pagina Che vi faccio vedere Come sempre È quella di Senigallia Tentano Il furto C'è Della cronaca In pagina In pagina 40 Della cronaca Di Senigallia Tre giovani Presi Alla stazione I ragazzi Però Hanno ammesso Tutto Volevamo Solo fare Una Bravata Ventenne Marocchino Fermato Dopo aver rubato Una batteria E gli auricolari Per il Telefonino E poi Una lite Nel parcheggio Una perizia Balistica Per la pistola Del Del poliziotto Si attende Appunto La perizia Balistica Della scientifica Per stabilire Se La pistola D'ordinanza Del poliziotto Domenica mattina Che ha avuto Una lite In un parcheggio Col vicino A Marzocca Era puntata Verso terra Come lui Ha riferito Il poliziotto Ricordiamo Che era stato Aggredito Dal vicino Con due pugni Che lo avevano Colpito al volto E lui Giustamente Si era difeso Sparando a terra Per spaventarlo Questa La versione Bene Questa era L'ultima pagina Siamo arrivati In fondo A questa Un po' tormentata Rassegna stampa Grazie per essere stati In nostra compagnia Questa sera Vi ricordo Naturalmente Il nostro telegiornale Occhio alla notizia Alle 20 e 30 Occhio ai giornali Torna domani mattina Alle 7 e 30 In diretta Buona giornata A tutti voi Grazie a tutti